Si chiama Pre-Derby del Cuore e si giocherà allo Stadio Renzo Barbera di Palermo l'11 dicembre alle 14.30. Si tratta di un match di beneficenza organizzato per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dal nubifraggio di Catania. Alla vigilia della sfida di campionato in Serie C fra Catania e Palermo, che si gioca domenica 12 dicembre alle 14.30 al Massimino, lo Stadio Palermitano ospiterà una partita spettacolo fra artisti, ex calciatori di Palermo e Catania, che saranno distribuiti fra le due squadre. Sulla panchina della rappresentativa palermitana siederà l'attore Tony Sperandeo, mentre su quella catanese il conduttore TV Salvo La Rosa. A ideare la manifestazione è stato l'inviato delle Iene Ismaele Lavardera, oltre al musicista Roy Paci. La partita sarà aperta dal cantante Nek. In campo andranno fra gli altri Ficarra e Picone, Roberto Lipari, Sergio Friscia, Stefania Petix, Sasa Salvaggio, Lello Analfino o Matranga e Mina Fo. Fra le vecchie glorie hanno già confermato la propria presenza Eugenio Corini, Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli o Cristian Terlizzi. I biglietti saranno inventati da lunedì pomeriggio sul circuito Viva Ticket sull'intero territorio nazionale. Le curve costeranno 5 euro, mentre si devono definire i prezzi per gli altri settori. Il ricavato sarà destinato al ripristino e al restyling dello storico mercato della pescheria di Catania, una delle zone più colpite dagli allagamenti. La consegna del maxi assegno con la cifra dell'importo raccolto avverrà nel prepartita del derby di campionato Catania-Palermo che si disputerà l'indomani allo stadio Massimino. È una cosa bella, è una cosa che fa parlare bene della nostra Sicilia, perché come avete visto il claim dell'iniziativa è molto forte, pre-derby del cuore una sola squadra alla Sicilia. Però l'idea è proprio di unire Catania e Palermo. Allenatore di eccezione della squadra catanese sarà Salvo La Rosa e l'allenatore di eccezione della squadra palermitana Tony Sperandeo. Abbiamo cercato di unire proprio gli artisti catanesi e gli artisti palermitani. L'evoluzione è in corso, nel senso che ci sono tante persone che ci stanno facendo sapere qualcosa e aspettiamo una risposta, però hanno già aderito tantissimi artisti catanesi e palermitani.